A me a volte capita di immaginare di fare una piccola fuga, una piccola vacanza, mini vacanza di qualche giorno lontano da tutto e da tutti e me l'immagino sempre in questa cornice di pace e tranquillità, a volte riva al mare, a volte però mi piacerebbe andare anche in montagna. Non sono una grande amante della montagna anche perché sono una donna di mare e mi piace molto la spiaggia, però ogni tanto mi vengono in mente questi quadretti di liaci. Adesso finalmente ho trovato un posto, una piccola perla nascosta dove fare una di queste piccole fughe in montagna e l'occasione mi è stata data dalla visita che ho fatto a mio figlio che ora studia all'università a Rovereto, all'università di Trento però nella sede staccata di Rovereto. E' mai essere andata in vita mia a Rovereto anche perché conoscevo il nome del paese, un piccolo paese però niente mai mi aveva attirato ad andare là e invece poi ci sono andata, ci ho trascorso qualche giorno ed è stata una vera e propria rivelazione. Anzitutto perché c'è il museo Mart che è molto bello, d'arte moderna, tra l'altro c'era una bellissima mostra su Klimt quando sono andata a vederlo. Ma diciamo tutto dall'inizio, da quando ho prenotato il mio soggiorno, ho trovato questa piccola perla, questo posto arrampicato su una montagna appena 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 fuori dal centro abitato, sono dieci minuti a piedi perché Rovereto è molto piccola. Si sale su per questa collina e si vede tutta la valle, tutte le montagne. Per me, ripeto, donna di mare, una vista mozzafiato, mi sentivo come Heidi che rincorre le sue caprette. Poi ho avuto la fortuna di trovare questa gentilissima signora, la signora Luisa che gestisce una piccola piccola pensione che si chiama Dolce Dormire. E che è situata lì in una situazione pazzesca, con questa stanza che mi dava questo piccolo giardino indipendente mio privato. Insomma, è stata un'esperienza molto positiva, anche dal punto di vista organizzativo. Perché non appena ho fatto la prenotazione per questa stanza, la signora Luisa mi ha detto che esiste questa app, Trentino Guest Card, riservata evidentemente alle persone che vanno in visita nel Trentino. E questa app dà un sacco di agevolazioni, incluso l'ingresso gratuito a tutti i musei che ci sono a Rovereto. E ce ne sono tanti, è una piccola città, però ci sono tantissimi musei. E soprattutto mi ha affascinato la casa d'arte futurista De Pero, che è un bagno di futurismo incredibile. Insomma, viva Rovereto!